Tutte le ricerche dicono che la maggior parte dei dropout avviene entro le prime sedute. Ad esempio Barrett e colleghi nel 2008, facendo una rassegna di diverse ricerche sui dropout, avevano visto che tra il 20 e il 57% dei dropout avviene nella prima seduta. Oppure il WHO nel 2013, facendo una ricerca che ha coinvolto una serie di paesi dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, ha visto che entro la quarta seduta avvenivano il 50% dei dropout. Come siamo messi in Italia? Non tanto bene. Considera che il nostro paese all'interno dell'Unione Europea è all'ultimo posto per il tasso di accesso ai servizi di salute mentale. Secondo, peraltro, diverse ricerche, tra il 60 e addirittura il 90% di chi in Italia ha un disturbo mentale, usiamo questa etichetta, non contatta mai uno specialista. Questo, se ci pensi, significa un bel po' di cose, perché da un lato vuol dire che poche persone, molto poche persone in Italia, accedono ai servizi di cura mentale quando ne potrebbero avere bisogno e trovarne beneficio. Dall'altra parte, e questo anche dobbiamo dirlo, significa anche molte meno possibilità di lavoro per gli psicologi, gli psicoterapeuti e tutti gli operatori della salute mentale. Se dovessi pensare ai motivi per cui questo avviene, immagino che ce ne siano davvero tanti, due in particolare sono l'idea della psicoterapia, come un processo ancora che dura tanto, 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 e quindi scoraggia le persone ad arrivare da noi, e i costi. Cosa possiamo fare noi psicologi in questo senso? Non ho la palla di cristallo, provo a dare una mia idea basandomi su la mia esperienza, i miei studi e un po' quello che riguarda l'ambito delle terapie brevi. Infatti, secondo me, oggi, integrare una terapia breve all'interno del proprio modello è un'ottima idea, tanto la terapia breve ha dato ormai in diversi campi, con diversi disturbi, con diverse problematiche, la dimostrazione che è efficace quanto tutte le altre psicoterapie. Considera c'era questo articolo della Nancy McWilliams, psicodinamica peraltro, che parla di come stiamo andando verso un'integrazione delle varie forme di psicoterapia, si stanno molto assottigliando le differenze tra diversi approcci. Quindi l'idea di poter integrare all'interno dei propri modelli, all'interno già di quello che stai facendo, anche delle risorse di terapia breve, dei modi di fare terapia che seguono le logiche della terapia breve, secondo me è una carta che oggi ci dovremmo giocare in molti. Quattro cose che puoi fare, secondo me, per iniziare a integrare la terapia breve all'interno del tuo modo di fare terapia. Sono delle opinioni mie personali, mi piacerebbe molto se magari pubblichi le tue nei commenti, così ci confrontiamo e allarghiamo anche un po' le idee. Numero uno, apri la mente, il tempo delle rigidità è finito, come dice la Nancy McWilliams, un altro autore, Michael Lloyd, che mi è molto caro, dice che dovremmo assumere un approccio multiteorico, in modo da poter switchare da una teoria e da un approccio terapeutico all'altro, a seconda di quello che è più opportuno per il cliente che abbiamo di fronte. Due, comincia a cercare online, ci sono tantissime forme di psicoterapia, inizia a vedere online di psicoterapia breve, inizia a vedere online quelli che possono essere più adeguati a te, sicuramente trovi un modello che è più adeguato al tuo modo di fare terapia, e informati semplicemente a costo zero cercando quello che puoi trovare sul web. Numero tre, a quel punto ovviamente passi a studiarti i libri. Il mio consiglio è andarti a cercare i golden standard, cioè i libri di quegli autori che vengono considerate le massime autorità all'interno del campo, in modo da poter avere il massimo dell'esperienza all'interno di quello che vai a studiare. E numero quattro, a quel punto vai a fare un corso di terapia breve in Italia o all'estero, con l'autore o comunque con l'approccio che ti ha convinto di più e che senti più vicino a te, in modo tale da poter prendere ed avere un'esperienza completa all'interno di quella terapia breve. Conclusioni, il fatto che molti clienti droppano velocemente, molti clienti hanno un'idea della terapia troppo lunga, e molti clienti non arrivano neanche in terapia per paura della lunghezza dei costi, significa sicuramente una cosa, che il cliente diventa sempre più una leva strategica nella scelta della forma di cura. non è una cosa strana, sta avvenendo da anni, e noi dobbiamo farci conti con questa cosa. Quindi se riesci a integrare una mentalità a terapia breve all'interno del tuo modo di fare, già, psicoterapia o consulenza psicologica, chi le può trarre un vantaggio sarai sicuramente tu e i tuoi clienti.